Salve tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come risolvere il problema riguardo al controller che non funziona su WWF2K24, il nuovo titolo che è uscito quest'anno, quindi in questo caso per risolvere il tuo problema, se per esempio stai nella partita, quindi nel gioco il controller non funziona, ma funziona solamente mouse e tastiera e il controller non va, può essere che Steam non rilevi così l'input del tuo controller, ovviamente come fare? Se andiamo direttamente su Steam sul nostro gioco, eccolo qua, andiamo direttamente su impostazioni, vai su proprietà, vai su controller, cambia per WWF2K24, usa impostazioni predefinite e metti abilità Steam Input. L'abilità su controller Xbox, Playstation, Nintendo Switch, controller generico e altri controller, quindi adesso funziona del tutto. Per altri problemi ancora possiamo direttamente andare su configura dispositivi di gioco USB, periferica di gioco, come puoi vedere non c'è nessun controller collegato, quindi non mi resta che collegare il mio controller, ovviamente è un controller wireless, quindi devo collegare la chiavetta, prendere così il mio controller, controller USB ed eccolo qua che si è connesso. Ovviamente, eccolo qua, controllo USB, vado su avanzate, periferica preferita e inserisco così il mio controller e faccio ok. Vado su proprietà e controllo si funziona perfettamente. Si muove, si muove, se zeta, si muove tutto, ok. Una volta fatto, vai su ok, oppure puoi ripristinare così i dati, quindi ripristina predefinite e faccio ok. Una volta fatto, non mi resta che andare su WWE e vedere se funziona perfettamente. Premo così un tasto, controller funziona, eccolo qua, come puoi vedere, ah, conferma, RB sopra funziona, visualizza e il controller funziona. Oppure possiamo andare direttamente per lo più giocabile con il tuo controller, vedi impostazioni, controller, ed eccolo qua. Layout ufficiale per WWE, eccolo qua. Modifica layout, per modificare così i tasti. Torniamo un attimo indietro, mostra layout. Layout, questo è layout ufficiale, consigliati, layout, layout della comunità. Come puoi vedere, questi sono. Tu puoi scaricare così il tuo layout, download in corso, eccolo qua, e lo applichiamo. Applica layout e ho messo il layout gamepad. E basta. E chiudo qua. Per altri problemi ancora, commenta sotto il video, fammi sapere se si è risolto tutto e vedrò di farci un'altra guida sopra. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. 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 Grazie a tutti